E nel frattempo invito a salire sul palco Federica Dallanoci, segretario generale di Adaci, associazione italiana, direttore acquisti e supply management, l'avvocato Daniele Portinaro, fondatore dello studio Elexia, e Fabrizio Fuiani, business stream manager di Tuve Rainland Italia. Dove vuole, dove preferisce. Bene. Avete un microfono per ciascuno, così. Siamo nell'ultima tavola rotonda, quindi a noi tocca anche un po' tirare le somme di questa giornata di riflessione e di spunto. Ora in particolare ci focalizzeremo sulla crisi di imprese e le soluzioni per prevenirla, perché è noto a tutti, penso che è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi di impresa, ovvero la cosiddetta riforma fallimentare, che alcuni aspetti entreranno in vigore il 15 agosto 2020, mentre alcune modifiche del codice civile sono già entrate in vigore, passati appunto 30 giorni della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quindi ci ricolleghiamo ai temi di prevenzione di rischio che abbiamo affrontato anche con la dottoressa Dallanoce nella prima tavola rotonda e quindi chiederei all'avvocato Daniele Portinaro di introdurre il tema appunto sulla riforma fallimentale. Quali sono le novità principali? Sì, dunque buongiorno a tutti, credo che voi sappiate che la vecchia o meglio attuale ancora legge fallimentare è un regio decreto del 1942, quindi è una legge che ormai ha 80 anni, io la trovo ancora una legge attuale interessante, chiaramente figlia di un concetto della Lex Mercatorum, dove per definizione il debitore era il frodatore, quindi dove c'era una forte componente di illicità nel debito e chiaramente ha subito il passare del tempo e l'evolversi di una situazione economica. Quindi dopo lunghi lavori iniziati con la Commissione Triviesanato nel 2007 e poi proseguiti con la Commissione Rordorf, che è il padre di questa riforma, finalmente dopo la delega appunto al governo è stato emesso questo decreto legislativo il 14 gennaio 2019, numero 14, pubblicato poi in gazzetta ufficiale nel febbraio. È una riforma copernicana della legge fallimentare, è un codice che si compone di 391 articoli, che ha una tecnica legislativa attuale, quindi una parte generale, una parte di definizioni, un procedimento unitario che caratterizza tutti gli istituti giuridici e poi l'analisi specifica di tutti gli istituti giuridici, andando poi a ricomprendere altresì le procedure di sovraindibitamento che come voi saprete oggi sono disciplinate da una legge diversa rispetto al reggio decreto, che è la legge 3 del 2012. Io credo, volendo ovviamente cercare di essere il più sintetico possibile, che due sono le tematiche che secondo me emergono. Io ho avuto il piacere di partecipare ai lavori delle varie commissioni e quindi le ho vissute anche da un punto di vista delle relazioni ministeriali. Secondo me due sono i temi fondamentali. La prima è che la statistica ha dimostrato e insegnato che le procedure concursuali hanno costi e tempi biblici e non portano il benché minimo beneficio alla massa dei creditori. Quindi i fallimenti apportano un beneficio pari sostanzialmente allo zero assoluto, i concordati un beneficio leggermente superiore ma assolutamente inadeguato e insufficiente rispetto poi alle criticità e all'impatto che un fallimento ha sulle ulteriori imprese. E quindi si è capito, non era compesso perché ci sono anche altri ordinamenti giuridici come quello francese e americano che da sempre li avevano adottati, che la crisi deve essere preventiva, cioè l'emersione della crisi deve essere preventiva. Quindi tutto il nuovo codice si basa sulle misure di allerta, cioè sono quelle misure che fanno scattare l'appalesarsi di uno stato da prima di crisi e poi di insolvenza. Questo è un tema focale, la crisi deve essere prevenuta, il curare la crisi si è capito che non serve assolutamente a nulla. Quindi c'è una grossa componente su questi famosi indici di allerta o indicatori della crisi di cui poi l'imprenditore, lo vedremo magari più avanti, si deve dotare per andare a comprendere in forma preventiva il momento in cui c'è l'emersione della crisi. Anzi, a dire la verità, l'intendimento del legislatore è fare ancora un passo indietro. Prima ancora che ci sia una crisi, c'è una possibilità di composizione della crisi in fieri attraverso un sistema non giurisdizionale, ma attraverso gli organismi di composizione della crisi che dovrebbero riportare l'imprenditore in quella situazione di equilibrio economico-finanziario. Il secondo tema fondamentale che secondo me emerge dal nuovo codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza è che l'imprenditore non è più l'esclusivo proprietario della propria azienda, nel senso che è prevista dal nuovo codice una serie di soggetti i quali hanno poteri e addirittura doveri di segnalare elementi o indici che fanno presumere l'insolvenza o l'insorgere dell'insolvenza, che non sono più la consapevolezza non sono più e non sono solo la consapevolezza dell'imprenditore, ma vengono attraverso delle segnalazioni che vengono definite interne. Il collegio sindacale è obbligato a segnalare delle anomalie e degli indici di crisi di insolvenza o affidate a creditori istituzionali quali l'Inps, l'agente della discussione, e l'agenzia delle entrate. Quindi all'imprenditore che omette di accettare, perché noi abbiamo poi un problema importante di cultura finanziaria, voi sapete che in Europa siamo considerati gli ultimi in termini di cultura finanziaria, quindi il grande problema è la consapevolezza dell'imprenditore e la volontà dell'imprenditore di far emergere la crisi, di far emergere innanzitutto con se stesso e quindi poi di andare ad adottare quei principi di risanamento. Qui viene sottratta all'imprenditore questa autonoma decisione di consapevolezza sull'insorgere o meno della crisi e viene attribuita anche a soggetti esterni, diciamo alla compagine sociale e all'organo amministrativo. A coronamento di questo principio è stato attribuito, secondo me in maniera sbagliata, a un ruolo particolarmente significativo e particolarmente importante alla Procura della Repubblica. Il Pubblico Ministero risulterà destinatario di tutta una serie di iniziative a, si ritiene, favore ma potrebbe essere anche contro di tutti quegli imprenditori che viceversa non si attivano tempestivamente. La parola tempestiva, senza intugio, direi che forse le parole che sono più usate nella parte del codice riguardante l'allerta, proprio per quel discorso che vi facevo all'inizio, per cui o la crisi ha un'immersione tempestiva o è statisticamente provato che l'imprenditore non ha la possibilità di ritornare in un equilibrio economico-finanziario. Ecco, Avvocato, diceva giustamente di questo sistema di allerta previsto dalla riforma. Ci sono degli strumenti specifici e degli indicatori. Come si distinguono? Sì, dunque la legge prevede dei segnalatori della crisi che sono appunto questi obblighi di segnalazione per in capo a determinati soggetti che sono quelli di cui vi parlavo prima, i fini dell'emersione tempestiva della crisi e finalizzate a che l'imprenditore adotti, senza intugio, dice la legge, tutte quelle misure previste dall'ordinamento giuridico per cercare di superare la crisi. Il legislatore, qui ci sono state poi un po' di critiche, adotta poi una tecnica legislativa che mutua molto e prende molto dalle discipline aziendalistiche, che è una tecnica legislativa ovviamente un po' particolare. Innanzitutto è stata affidata al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, quello nazionale, la previsione indicazioni di indici riguardanti le categorie ISTAT, cioè i codici ATECO, quindi per categoria verranno previsti degli indici dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, previo decreto di approvazione del MISE. Avranno cadenza triennale e l'articolo 13 ti dice che dovranno essere redatti secondo le best practices nazionali e internazionali. Non si hanno ancora indicazioni al momento di quali potrebbero essere quantomeno alcuni di questi indici, voi sapete che i codici ATECO sono più di 20.000, quindi diventa poi molto complesso immaginare che alla propria impresa possono essere applicati degli indici che non potranno anche avere dei caratteri di astrattezza e di generalità. Tanto che il terzo comma dell'articolo 13, che è quello che riguarda gli indici d'allerta, e questo secondo me è un tema su cui vorrei che voi focalizzaste la vostra attenzione, prevede esplicitamente un'aderoga a questi principi e a questi indici che verranno stabiliti, laddove la singola impresa non ritenga che questi indici ben si confacciano all'impresa medesima, possono previo l'attestazione di un professionista indipendente che non si comprende ancora a quale categoria debba appartenere, possono prevedere, breve inserimento nella nota integrativa accompagnatoria del bilancio, possono prevedere che vengano effettuati degli indici ad hoc specifici per la singola impresa. Si ritiene che il comma terzo dell'articolo 13 che si pensava essere un comma che sarebbe stato di fatto cancellato per desuetudine, vista la difficoltà nell'emanazione di questi indici potrebbe essere invece la soluzione più interessante. Sentevo prima la dottoressa Radarelli su un concetto di predittività, oggi come oggi la parte aziendalistica che si occupa degli aspetti finanziari di questa riforma del codice della crisi dell'impresa è tutta focalizzata sul monitoraggio della centrale rischi e sulla predittività degli indici, nel senso che i criteri degli indici esterni, cioè i creditori che muovono delle contestazioni o gli indici a consuntivo, che è un altro criterio aziendalistico, sono tutti indici considerati tardivi rispetto all'emersione della crisi, mentre gli indici predittivi e la legge ci dà una mano perché li indica nella capacità di sostenere il proprio indebitamento per almeno sei mesi con i propri flussi di cassa o la continuità aziendale almeno per l'esercizio in corso e poi va oltre a fronte al tema dell'adeguatezza tra mezzi propri e mezzi di terzi, il reiterato ritardo nei pagamenti e affronta un concetto anche qui puramente aziendalistico della cassa, quindi dei cash flow previsionali, ecco che tutta, per rispondere dottoressa alla sua domanda, tutti questi indici sono finalizzati a una capacità di prevedere, quindi predittivi rispetto alla crisi. Ultima informazione che vi voglio dare, da le grandi società di software, vedaci Zucchetti a un professor universitari, vedaci il professor Grosso della Cattolica, stanno tutti elaborando ovviamente dei programmi informatici che non sono dissimili da quelli utilizzati per la valutazione nella centrale rischi, tutti finalizzati alla individuazione di indici ad hoc per la singola impresa predittivi di quello che potrebbe essere la crisi. Grazie, dottoressa Dallanoce, con lei ne abbiamo accennato appunto nella prima tavola rotonda, sempre rimanendo sugli indici, diverse sono le variabili, quello che conta è la combinazione anche dinamica di queste variabili. Allora, intanto grazie Avvocato perché ha introdotto il tema degli indici e soprattutto per il terzo paragrafo, perché credo che se tutte le aziende si rifacessero a una media di settore data dal MISE rinnovabile ogni tre anni, vi dico che questa normativa che è già attiva da gennaio, ma che comunque diventerà applicativa dal primo gennaio del 2020, se non mi sbaglio, dal 15 agosto, benissimo, praticamente mette in allarme per quanto riguarda gli indici, soprattutto le aziende che sono in crisi. SRL, 480.000 aziende in Italia, 180.000 entro fine anno devono chiudere. Quindi abbiamo un problema perché non sono poche. Allora, al di là di tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, la parola prevedibile è una parola che oggi è molto difficile da riuscire a metabolizzare in azienda. Qualcosa è prevedibile se io so che accade, quindi se lo conosco, quindi se sono in grado di pianificarlo in qualche maniera. Quindi si basa su una conoscenza delle funzioni interne delle aziende e sulla capacità di realizzare questa pianificazione. E anche qui devo dire che in questi anni le aziende, proprio dovute al periodo di incertezza, hanno ristretto l'esercizio di pianificazione, oppure l'hanno accelerato in una pianificazione nel breve, perché la normativa in termini di pianificazione parla di sei mesi, massimo un anno. Cioè le aziende non hanno più tutto questo tempo per rimettersi in piedi. Per quanto riguarda gli indici, c'è un riferimento ancora una volta un po' parziale, perché ancorché sia lasciato ai dottori commercialisti la definizione di questi indici, si tratta di indici economici, finanziari e di stato patrimoniale che, scusate, ne abbiamo già tanti, usiamo bene quelli che abbiamo. Cos'è? Cioè ci sono, no? Quindi quello è, nessuno vi deve insegnare il vostro mestiere, però vanno applicati. Ma cos'è che non dicono gli indici? Proprio quello, la differenza di sistema fra norma volontaria e non volontaria, di cui accennava la dottoressa Radarelli, con cui sono molto d'accordo. Cioè l'errore è che se una cosa non è certa, noi non la mettiamo nei numeri. Quindi, conoscendo l'imprenditore italiano, siccome lui non rischia mai, un rischio non si descrive, un rischio non si mette a conta economica, ma un rischio non si mette neanche a budget. Allora, la domanda qual è? Come la facciamo questa pianificazione per prevedere un rischio d'impresa? Bisognerà codificarlo il rischio. Allora, io sono per un sistema di KPI aziendali che abbia in sé il contenuto del rischio, che abbia in sé le azioni piano A, piano B e piano C, se succede quella cosa cosa facciamo? E deve essere una cosa progettata. Quindi non è possibile dire non so qual è il rischio. Il rischio va codificato. Come abbiamo visto, le banche sono obbligate a farlo, entriamo in una normativa obbligatoria. Le aziende, in ambito di prezzi, in ambito nella stesura del bilancio, ma non in ambito di business. L'ambito di business si rivolge a una pianificazione che non è messa nei numeri annuali. È una pianificazione a tendere. Allora, come faccio io, che sono in alto e sono l'imprenditore, a trasferire alle persone un obiettivo di rischio? Lo devo declinare. Devo parlare un linguaggio, un linguaggio comunicativo all'interno dell'impresa che evidenzi quello che è il rischio. Adesso vi guardo e immagino che voi abbiate in mente il modello triage, che piace tanto. Area rossa, area verde, area gialla, ma la dottoressa ci sta raccontando questa cosa. Scordatevela. Quella roba lì non la utilizzerete mai. Cioè, il numero, se è embedded nel KPI, mi deve normalizzare l'indice e renderlo parlante. Qualcuno stamattina ha parlato di programmazione della produzione, ha parlato di capacità produttiva limitata. Bene, a me piacerebbe avere una produzione di indici che io direi pianificata e adeguata, con un indice di rischio accettato, in cui tutta l'organizzazione ha capito che cos'è. E quindi io devo declinare per ogni area aziendale che cos'è. Ma non sto parlando di rischio legale, quello è facile. Non sto parlando di inadempimento normativo, anche questo è facile. Sto parlando di descrivere il progetto di business. Quindi, faccio un esempio. Nel procurement, non per essere esemplificativa, ma per andare un po' alle conclusioni, si dice, la regola di base è che non puoi avere un fornitore, perché hai un altissimo rischio. Un fornitore. Fornitore con concentrazione di fatturato, lui verso di te, secondo rischio altissimo. Perfetto. Ma se quel fornitore è una multinazionale, è unica nel suo settore, e la tua alternativa è una commerciale della multinazionale, scusami, che cosa hai ridotto? Nulla. Allora, prendere coscienza di quelle che sono le azioni, quindi del fatto che se la multinazionale cambia prezzo, per te è un meno dal punto di vista economico. Quindi, aggregare questi indici e sintetizzarli per un fornitore, e ritorno a quello che dicevo stamattina, o per un cliente, significa definire un rating, ma che non è solo un rating finanziario. È un rating che misura il rischio finanziario, la relazione, la sostituibilità. Quindi mi devo dare una scala di valori che viene modulata all'interno dell'organizzazione. Allora uso bene questa normativa, perché questa normativa è la cosa più importante che secondo me ha fatto, e io arrivo da Padova, dove Sant'Antonio da Padova era famoso, nonostante fosse spagnolo, perché aveva attivato tutte le procedure contro gli usurai. Perché la gente all'epoca, come oggi, se aveva un debito, si ammazzava, si toglieva la vita. Abbiamo avuto tanti imprenditori padovani che ancora oggi credono e sentono che la parola fallimento è una vergogna. Quindi la crisi di insolvenza d'impresa cancella la parola fallimento con due modalità. Uno, la camera di discussione, cioè questa cosa diventa pubblica. Se tu hai un problema, c'è un registro di aziende che sono comunicate, perché qualcuno parla al di fuori di te, e tu entri in una nota pubblica. Ma in questa nota pubblica ti chiamano per riuscire a concordare se tu puoi rientrare dalla crisi. Allora questa cosa attiva l'insolvency act inglese, che dice che se tu hai dimostrato che era nel tuo ruolo, che hai fatto di tutto per evitare la crisi, il tuo debitore e il tuo creditore si devono mettere d'accordo. Quindi si dividono la perdita, o devono trovare in qualche maniera una modalità di superare la crisi. E questo cosa vuol dire? Che se ho qualcuno che è in crisi, non devo mollarlo da parte, lo lascio e lo taglio dalla mia rete. Sono chiamato anche economicamente a vedere se la situazione è sanabile. E se non voglio essere parte di questa riduzione del credito, se io sono il cliente, beh, gli devo trovare una situazione. Quindi nascono i veri business developer interni, che saranno quelli chiamati a risolvere le crisi. Quindi si favorisce anche la continuità aziendale. Si, si favorisce la continuità oppure l'accelerazione verso la chiusura, ma perché permetta la continuazione di altri. Ma in questo c'è una negoziazione. Mentre prima si arrivava quasi per stilicidio, per decorso dei tempi, con un costo enorme, no? Per quanto riguarda tutte le procedure. In questa fase la positività sta che c'è una valutazione reciproca su un obiettivo di ristanamento. Tra l'altro anche a livello terminologico è scomparsa proprio la parola fallimento, sostituita da liquidazione giudiziale. Voleva intervenire l'avvocato, poi avevo una domanda per il dottor Juliano. Ovviamente la parola, una piccolissima precisazione, condividendo il pensiero della dottoressa Dallanoce ovviamente. Volevo solo però mettere un attimo l'accento sull'aspetto pratico. Cioè questa legge, che ribadisco, ha degli ottimi principi e si basa su un'esperienza anche storica, come ho detto prima, culturale. Non c'è più il termine fallimento, anche se poi in realtà è un aspetto puramente terminologico, perché nella sostanza non cambia assolutamente nulla. Ecco, si discute molto l'impatto pratico di questa possibilità che rappresentava la dottoressa. Il presidente Rordorf ha fatto un intervento bellissimo, facendo un monito ai quattro soggetti fondamentalmente operatori in questa materia, che è il debitore innanzitutto, i creditori, che sono dei soggetti estremamente importanti nell'atteggiamento prima, durante e dopo la crisi, come veniva giustamente messo in luce, i professionisti che assistono l'imprenditore, e i magistrati, perché questi sono i quattro attori della crisi. Per come è previsto il codice della crisi dell'impresa, si prevede che nei prossimi cinque anni non sarà possibile effettuare una composizione della crisi. Nel senso che la legge, in questo slancio di A. Riduzione dei costi delle procedure, assolutamente condivisibile. B. Riduzione dei tempi delle procedure, condivisibile astrettamente, ma che talvolta si scontrono con delle esigenze e con delle realtà concrete, prevede che l'imprenditore, oggetto di segnalazione, o che spontaneamente si rivolge all'Ocri, o a cui il collegio sindacale o la società di revisione chiede chiarimenti, debba fornire chiarimenti entro 30 giorni e porre in essere le misure correttive entro 60 giorni. Allora, io sono disperato quando vedo che nel mio studio, io faccio curatore fondamentale del commissario da 30 anni, magari ho procedure vecchie di 2, 3, 4, 5 anni, mi dicono sono veramente un incapace, poi le vai a vedere e dici devo vendere un immobile e sono alla decima asta, decima asta vuol dire 4 anni solo per quello. Ora, pensare che un imprenditore in 30 giorni riesca a capire da dove si è originata la sua crisi, e forse questo se un imprenditore lungimirante è attento, magari ce la può fare, ma che in 60 giorni ponghi in essere tutte quelle misure d'attuazione della risoluzione della crisi che sono state diciamo indicate o condivisi con gli organi di controllo, ecco, io faccio molta 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 fatica a pensare a questa tempistica. E chiudo con un ultimo passaggio, quando si arriva all'ulteriore step, che è ancora uno step pre-giurisdizionale, cioè quello dell'accordo di composizione della crisi attraverso i famosi OCRI, che non sono una brutta parola, ma sono gli organismi di composizione della crisi, tre professionisti nominati dal Tribunale, dalla Camera di Commercio e dall'Associazione di Categoria, che sono ovviamente normalmente due commercialisti e un avvocato, in tre prorogabili di ulteriori tre, quindi in sei mesi, dovrebbero entrare in un'azienda, capire l'azienda, capire la veridicità di quello che ti racconta l'imprenditore, avere un benchmark di riferimento con il mercato, con i competitors, gestire l'indebitamento con tutti i creditori, compresi gli istituzionali, voi sapete cosa vuol dire interloquire o interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate, o anche con alcune banche, cito serenamente BNP Paribas, su tutte, che hanno dei tempi deliberativi clamorosamente lunghi, e io, perché io farò parte di questi soggetti, che non ho tra l'altro conoscenze aziendalistiche, ma io sarò la parte giuridica e legale, ecco io credo, ma non lo credo io purtroppo, ma lo crede la Camera di Commercio e lo crede la Banca Italia, che circa 180.000 società che oggi accederebbero alla crisi andranno direttamente nelle procedure giurisdizionali che sono quella che viene chiamata la liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento o il concordato o l'accordo di composizione della crisi, perché io non credo che tre soggetti totalmente strani al mondo imprenditoriale e comunque al mondo imprenditoriale di categoria siano in grado in tre mesi o sei mesi di risolvere magari una crisi che si è protratta per anni o da anni e quindi con una calcificazione sempre più importante delle cause della crisi stessa. Ecco, come ogni nuova normativa ovviamente presenta luci e ombre. A proposito di gestione anche della crisi di imprese introduciamo anche il concetto di credit management che abbiamo lasciato non da ultimo ovviamente per importanza, tra l'altro TUV Rheinland è stata uno dei primi enti a rilasciare la certificazione del processo di gestione del credito. Quanto è importante che questa funzione si interfacci anche con la funzione di amministrazione, finanza e controllo? Bene, grazie. Allora sicuramente c'è un nesso tra tutti gli interventi che ho ascoltato stamattina con estremo interesse per arrivare poi a rispondere alla domanda per cui le aziende oggi hanno già probabilmente tutta una serie di indicazioni e di indicatori che probabilmente devono essere solo messi a sistema nel senso che noi siamo degli specialisti in qualità di ente di certificazione di norme che nelle vostre aziende, nelle nostre aziende ci sono già il problema che si lavora ancora per pillar verticali, quindi comparti stagni. L'aspetto culturale da sfidare, da portare e da sviluppare ulteriormente all'interno di un'azienda è il tema di metterli a sistema. Quindi ho già sentito con estremo interesse l'intervento, tra l'altro preso nota, del dottor Ripamonti dove si apre un confronto all'interno dell'azienda non soltanto nella funzione specifica ma anche con le altre funzioni adiacenti. Ho sentito anche con interesse l'azienda Molteni che conosco perché è una di quelle aziende che ha portato avanti il tema anche della business continuity quindi del risk management e queste culture aiutano l'azienda a lavorare in un'ottica integrata quindi a far sì che le aree tra loro riescano a comunicare e a capire gli impatti di scelte dell'una e con l'altra. Per il tema credit management su cui noi stiamo lavorando ma non solo su questo, stiamo lavorando anche con Haiti sul tema della tesoreria, stiamo lavorando con Andaf sul tema del processo finanziario che cosa andiamo sostanzialmente a supportare a verificare all'interno dell'azienda quello che è la gestione del ciclo attivo che non riguarda soltanto il credit manager laddove esiste, non riguarda solo il finance ma riguarda anche le vendite e quindi i commerciali ma soprattutto tutte le persone, i dipendenti coinvolti. Un accenno vorrei fare rispetto a questa legge anche dei modelli organizzativi nel senso che gli indicatori noi siamo, fatemi dire, l'aspetto un po' più qualitativo che quantistico e quantitativo e quindi ci teniamo a dire spesso e volentieri in situazioni come quella di oggi che l'indicatore è frutto di una serie di scelte e modelli organizzativi che le aziende hanno attuato e stanno implementando. Il limite che vediamo oggi è l'utilizzo e quello che è il fattore culturale di andare a verificare quella che per esempio è una business impact analysis di cui abbiamo già sentito comunque una relazione quindi capire qual è la resilienza e la vulnerabilità della nostra organizzazione rispetto a standard normativi che sono stati già implementati. Quindi se posso semplificare il tema è mettere a sistema quello che esiste già in una visione integrata tra le varie aree che compongono l'azienda. Questo evidentemente andando incontro a un principio di sostenibilità e di trasparenza. Non voglio fare teoria, sostenibilità in un'ottica proprio di capacità di durare nel tempo. Quindi è stato detto dall'avvocato e dalla dottoressa Dallanoce il tema di questa legge è quello di riuscire a evitare o di non andare incontro a un fallimento. Quindi la capacità preventiva di valutare a 6-12 mesi prima di una possibile crisi che tipo di soluzione attuale. E l'altra evidentemente è il tema della trasparenza. Quindi speriamo ormai si sia in qualche modo superato il limite di non conferire quelle informazioni che si reputano strategiche. Ormai stakeholder come le banche, come gli assicuratori, come i broker, come i collegi sindacali e sempre di più gli organi di controllo chiederanno alle aziende di trasferire i propri asset che siano essi materiali o immateriali o di processo. Quindi vuol dire essere in grado di comunicare modelli organizzativi che sono stati implementati dimostrandone l'efficace attuazione. Questo è quello che noi intravediamo oggi come grande opportunità per non vedere l'ennesima e mi chiedo perdona all'avvocato legge a cui dobbiamo comunque in qualche modo allinearci ma guardandole magari anche il vantaggio che ne possiamo trarre in quest'ottica. Quindi molte aziende speriamo che con questo tipo ulteriore dispunto legislativo possano rivedere al proprio interno ripeto, modelli già implementati ma che non parlano tra loro. Questo è il grande limite che noi vediamo nelle più di 100.000 aziende che visitiamo e uditiamo all'anno. Quindi questo è un po' quello che volevo trasferirvi. Quindi nel credit management quello che noi andiamo a verificare è non qualcuno ci ha detto ma voi cosa fate, mettete il bollino sulla credit policy laddove esiste? No, noi andiamo a verificare innanzitutto che esista una politica di gestione del credito ma soprattutto come e se viene attuata e condivisa all'interno dell'organizzazione. Questo è il tema. Grazie. Volevo aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che noi siamo in un momento si parla tanto di cambiamenti io vorrei dire che è un'epoca di cambiamento ma anche un cambiamento d'epoca e questo dovremmo mettercelo nel nostro DNA. Quindi è quella cosa per il CFO per il credit manager per chi gestisce il rischio per le persone del procurement dove noi non siamo ancora nel presente quando arriviamo nel presente è già passato. Quindi qualsiasi cosa che ci capita sotto a questo concetto di impermanenza. Allora, in un concetto di impermanenza dove tutti gli organismi stanno cambiando in realtà quello che noi dobbiamo cercare di capire è come riuscire a superare la complessità del momento ma la complessità del momento non la posso evitare non posso dire adesso ci passo dentro senza un metodo e la guardo e poi ne esco sarà un'altra cosa. Gli devo dare una logicità e la logicità gliela posso dare non tanto con il dinamismo con la corsa con il fare 10.000 report e tirare fuori i 3.000 indici no noi dobbiamo avere dei cervelli plastici dobbiamo sapere quale modello va applicato in quel momento non dobbiamo solo essere veloci per dare qualcosa dobbiamo cercare veramente di capire come aiutare l'impresa a raggiungere i suoi obiettivi e le funzioni e lo possiamo solo fare se abbiamo la capacità di utilizzare un linguaggio comprensibile prima di tutto il nostro con le altre funzioni e bisogna trovare una mediazione una mediazione anche numerica che ci permetta in qualche maniera di far confluire non solo gli attori interni ma anche quegli esterni in realtà sul nostro progetto di azienda ecco perché il rischio e questa normativa in questi momenti critici apre la porta a dei linguaggi comuni però la cultura deve crescere cioè sul tema del rischio dell'insolvenza nel presa vi assicuro che è più preparata l'India che ha sempre avuto come paesi meno normativo una normativa più chiara una normativa che dice se un imprenditore fallisce non apre più un'azienda e si sono strutturati in un concetto di salvataggio positivo per il paese vero quindi non prendiamo quindi non prendiamo questa normativa come così lo spauracchio l'ennesima imposizione ma usiamola per migliorare anche i nostri processi interni e le nostre modalità di gestione bene io ringrazio Federica Dallanoce di essere stata con noi l'avvocato Daniele Portinaro e Fabrizio Fugliani grazie grazie a voi per coloro che sono invitati al pranzo l'appuntamento è su in balconata ringrazio tutti voi di essere stati con noi in questa mattinata di approfondimento e discussione e vi invito ai prossimi eventi delle fonti grazie